Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Che apriamo parlando di cronaca partendo da Catania, controlli dei carabinieri nel quartiere Librino, parliamo di Spazio di sostanze stupefacenti con un giovanissimo pusher, un ventenne finito in manette, ma per i dettagli. Vediamo il servizio. Prosegue incessante il contrasto allo smercio di droga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania. I militari del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno tratto in arresto un ventenne catanese poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attenzione in questo caso è stata rivolta al quartiere Librino, dove grazie ad alcuni mirati servizi di appiattamento in modalità discreta e a distanza, agli investigatori non è sfuggito il continuo via vai di giovani nei pressi di una palazzina di Viale Grimaldi. Individuato l'obiettivo, i militari dell'arma hanno quindi cominciato a porre sotto la loro lente di ingrandimento quell'abitazione, avviando le necessarie indagini del caso. L'attività info-investigativa ha così consentito ai carabinieri di comprendere che il giovane aveva allestito un proficuo smercio di stupefacenti al dettaglio, utilizzando come base logistica e punto di stoccaggio un appartamento situato all'ultimo piano dello stabile, protetto da un'inferriata installata in maniera totalmente arbitraria che delimitava l'accesso all'intero pianerottolo col fine di ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo aver chiarito le dinamiche dello spaccio, i carabinieri hanno quindi pianificato il blitz e si sono appostati senza farsi scorgere nel cortile del palazzo, in attesa del momento più favorevole per fare irruzione. La paziente attesa è stata premiata nel momento in cui alcuni giovani sono entrati nello stabile, lasciando inadvertitamente il portone aperto. Questa favorevole opportunità è stata subito sfruttata dalla squadra dell'arma, che ha così deciso di seguire quei ragazzi e raggiungerli proprio mentre stavano per oltrepassare il cancello, barriera in ferro dell'ultimo piano. Riusciti a entrare, per lo spacciatore a quel punto non c'è stato scampo, perché mentre alcuni militari hanno bloccato la porta d'ingresso spalancandola, altri lo hanno bloccato e messo in sicurezza dando il via alla perquisizione. Già all'ingresso i carabinieri hanno scovato dosi di cocaina per un peso di oltre mezzo etto, sistemate su una console e poi nel soggiorno arredato con un trono in stile Scarface e riproduzioni di pistole in ceramica dorata, i militari hanno recuperato ben 6.500 euro, denaro che il pusher aveva incassato in virtù dello spaccio, oltre a un bilancino di precisione per pesare la droga e confezionarla nelle giuste quantità in base alla necessità dei clienti. Arrestato, il pusher è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto sottoponendolo alla misura cautelare del divieto di dimora del comune di Catania. Un arresto anche a Scicli nel Ragusano si tratta di un 49enne, finito poi in carcere, accusato di diversi reati, tra questi anche maltrattamenti in famiglia. Vediamo il servizio. I carabinieri della tenenza di Scicli hanno tratto in arresto, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Catania, ufficio esecuzioni penali, un 49enne con numerosi precedenti di polizia a carico. L'uomo, destinatario di una misura restrittiva conseguenza di un cumulo di pene concorrenti, si è reso responsabile di una serie di reati, come maltrattamenti in famiglia e utilizzo improprio di denaro contante e carte di pagamento in merito a specifiche transazioni finanziarie. I fatti, commessi dal 2007 e protrattisi sino al 2020, hanno riguardato anche la violazione degli obblighi di assistenza familiare, motivo per cui si è configurata, in questo caso, la permanenza del reato stesso che ha aumentato la pena per il destinatario della misura. L'uomo, dopo aver espletato le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa dove espierà la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione. Lo strumento operativo dell'arma ha sortito i suoi effetti positivi poiché ancora una volta la costante attività di prevenzione e repressione che viene svolta soprattutto nelle aree più sensibili del territorio, ha consentito di assicurare alla giustizia un uomo che tra le mura domestiche imponeva il suo diktat. Parliamo adesso di sicurezza stradale da Scicli. Ci spostiamo virtualmente a Palermo dove i carabinieri hanno effettuato dei controlli approfonditi, controlli che hanno portato a riscontrare diverse irregolarità. E allora sono state levate sanzioni ed effettuate anche delle confische. Ma per i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030, proseguono nell'incessante attività di controllo straordinario alla circolazione stradale con un forte investimento sulla cultura della sicurezza su strada, finalizzata, in particolare, alla promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. L'attività dei militari, che proseguirà per tutto il periodo estivo, si inquadra nell'accordo di collaborazione interistituzionale stipulato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede, tra l'altro, l'effettuazione di specifici controlli sui comportamenti di guida più a rischio e il rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante lo scorso fine settimana, a Palermo sono stati numerosi i posti di controllo effettuati dai militari del nucleo radiomobile, in sinergia con le pattuglie mobili di zona delle due compagnie di Palermo Piazza Verdi e San Lorenzo, che sono stati coadiuvati da un laboratorio mobile autonomo con personale medico dotato di attrezzature e strumentazioni in grado di certificare nell'immediato le condizioni di alterazione psicofisica da parte degli utenti della strada. Nel corso del servizio sono stati controllati quasi un centinaio di automobilisti, oltre 50 i conducenti sottoposti all'accertamento con l'etilometro e al test antidroga, che ha portato a elevare quattro sanzioni di natura penale e amministrativa, il ritiro di sei patenti di guida e il sequestro per confisca di tre autoveicoli. Diverse le infrazioni al Codice della Strada per la guida con il telefono cellulare, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza per mancata copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. Ristretto agli arresti domiciliari evade più volte. Il fatto è avvenuto a Siracusa e un trentenne, beccato chiaramente dai carabinieri, è finito in carcere. I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno tratto in arresto un pregiudicato, un trentenne del posto, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo, già ai domiciliari, ha più volte violato la misura in quanto è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. I militari dell'arma hanno prontamente segnalato le violazioni all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il trentenne è stato condotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa. Cambiamo decisamente argomento. Emergenza si cita sempre in primo piano in Sicilia, a tema ovviamente di rilevanza. Allora anche il Governo nazionale si occupa della questione, è istituita una nuova struttura tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare e gestire proprio la crisi idrica nell'isola. Ma per i dettagli vediamo il servizio. È stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una nuova struttura tecnica per il coordinamento degli interventi sulla crisi idrica che da mesi ormai affligge l'intera Sicilia. La struttura, coordinata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è altresì composta dal Commissario straordinario nazionale per la gestione della crisi idrica, Nicola Dell'Acqua, dal Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica in Sicilia, il Governatore Renato Schifani, e dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Il nuovo organismo, in particolare, dovrà definire interventi organizzati in stralci o lotti funzionali in base alla disponibilità delle risorse economiche, monitorare l'avanzamento procedurale, seguire l'attuazione di determine, bandi, gare e contratti per garantire la corretta realizzazione degli interventi, supervisionare le fasi di realizzazione, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, assicurandosi che procedano secondo i piani stabiliti e gestire gli aspetti finanziari, controllare i trasferimenti economici alle contabilità speciali, gestire gli impegni di spesa e le spese sostenute. Notizia da Palermo, negozi più grandi nel centro storico, è stato superato il limite dei 200 metri quadrati. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Via libera dalla regione all'insediamento delle medie strutture commerciali nel centro storico di Palermo. Il parere è stato espresso dalla Commissione Tecnico-Specialistica per le Valutazioni Ambientali, presieduta da Gaetano Armao. Si potranno avviare attività con superfici superiore ai 200 metri quadri, ma l'ultima parola la dirà il Consiglio Comunale. La proposta era stata definita dall'Aggiunta presieduta da Roberto Lagalla su indicazione degli assessori all'urbanistica Maurizio Carta e alle attività produttive Giuliano Forzinetti. L'insediamento delle attività commerciali nel nucleo storico avverrà nel rispetto di precise e opportune distanze fra esse onde contenere un eccessivo impatto visivo sull'architettura storica del contesto e distribuire i flussi commerciali. Tutto ciò avverrà sempre nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali dell'area storica della città, dicono Lagalla, Carta e Forzinetti. Lagalla esprime inoltre soddisfazione per l'importante esito che consentirà al Comune di rimuovere l'obsoleto limite dei 200 metri quadri, portato da 600 metri quadri grazie a una legge regionale, per consentire, previa pianificazione, che eviti l'apertura selvaggia alle medie strutture, di trovare nel centro storico un ambiente fertile per le loro esigenze, contribuendo a riattivare il suo dinamismo commerciale con particolare attenzione alla Via Roma. Parliamo di calcio, buona, anzi ottima, la prima per il nuovo Palermo di Dionisi, che alla prima gara ufficiale centra una vittoria importante, 1-0 in trasferta sul campo del Parma, parliamo di Coppa Italia, e dunque il Palermo che supera il turno e adesso affronterà il Napoli. decisivo il gol di Insigne. Sentiamo le parole del tecnico Dionisi, ovviamente soddisfatto per la prestazione dei suoi, Dionisi che ha parlato ai canali ufficiali del Club Rosanero. Se parliamo della partita, diciamo che ci sono stati episodi, negli episodi siamo stati bravi, perché Alfred ha parlato a rigore, creato da una situazione dove la palla ce l'avevamo noi, quindi una nostra leggerezza, però insomma è stato un episodio decisivo, poi per il risultato finale, siamo stati bravi, perché poi realmente abbiamo anche creato meno di quello che avremmo meritato, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo fatto volume di gioco, ero molto soddisfatto di quello che avevamo fatto, tranne della finalizzazione che era un po' mancata. Nel secondo tempo eravamo un po' stanchi, il risultato ha condizionato un po' la gestione della palla, dove potevamo probabilmente fare un po' di più, ma la partita è stata positiva, la squadra ha fatto bene, cerchiamo di dar continuità più possibile, a prescindere da un risultato positivo o negativo che fa parte del calcio. Questo è l'atteggiamento che dovremmo mantenere, a prescindere dall'avversario, in tutte le situazioni di gioco, cercare di non snaturarsi mai, poi non è facile, perché davanti hai un avversario che come oggi, che ti mette in difficoltà, ma così sarà sempre, anche venerdì, dovremmo essere bravi in tutte le fasi della partita, in tutte le partite, perché se saremo squadra come oggi, sicuramente riusciremo a toglierci le soddisfazioni che meritiamo. Speriamo che porti entusiasmo, ma su quello non ho dubbi, speriamo che i nostri tifosi ci sostendano sempre, come abbiamo fatto oggi, perché noi cercheremo sempre di onorare loro, la maglia e chi rappresentiamo, fermo restando che non possiamo garantire sempre risultati positivi, ma sicuramente prestazioni come oggi, sicuramente lo dobbiamo fare, perché abbiamo le qualità per farlo, e quindi se una prestazione così porta anche risultato, con una squadra sulla carta superiore a te deve essere motivo di convinzione, che possiamo fare se tutti lo vogliamo. Il merito della squadra, perché un singolo si esalta se la squadra fa bene, è normale che stiamo parlando di uno sport a basso punteggio, dove il dettaglio fa tanta differenza, quindi il gol non subito per merito di A, per bravura di Alfred, il dettaglio fatto, per bravura di Roberto, ma non solo, perché anche Salim, ma tutta la squadra ha lavorato per quello, dopo loro prendono magari titoli, però c'è una squadra che ha fatto partita, ha permesso a chi ha determinato nel risultato di essere nominato, perché poi la squadra ha difeso da squadra e attaccato da squadra. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.